Salve a tutti, faccio questo video perché molti di voi me l'hanno chiesto sia su Instagram sia per email ovvero del perché ogni tanto, così casualmente, le caridine possono assumere una determinata postura alcuni erano preoccupati per una muta che non usciva, altri per una malattia probabile prima di rispondervi basandomi sulle mie esperienze vi faccio vedere di cosa sto parlando osservate bene questa neo caridina sicuramente se avete avuto delle caridine avrete visto questo, ovvero questo rannicchiarsi, questo piegarsi in due su se stesso della caridina e questo ovviamente ha portato a molti di voi a domandarsi del perché facessero questo ebbene vi rispondo adesso allora per mia esperienza nessuna caridina aveva malessere dovuta a questa postura questo è semplicemente un comportamento particolare che le caridine assumono semplicemente per pulirsi anche le caridine devono pulirsi e sul carapace possono formarsi alcune alghette e alcuni depositi loro hanno praticamente la possibilità di piegarsi su se stessi e lavarsi osservate questo dettaglio come con le zampe tende a togliersi le alghe superficiali dal carapace molti sospettavano un difetto della muta ma in realtà così non è perché un difetto della muta si vede con altri problemi con linee bianche trasversali e comunque un carapace malmesso invece in questo caso semplicemente è un atto per pulirsi come un gatto che si pulisce con la lingua che lo vedete in una posizione piegato su se stesso così fa anche la caridina a conferma di ciò sono anche andato su alcuni forum stranieri per confermare questa situazione e effettivamente tutti dicevano più o meno la stessa cosa che non è un comportamento patologico cioè lo fanno ogni tanto per pulirsi per poi tornare alla loro normale postura come vedete qui questa che vedete la caridina yellow ovviamente lo fanno tutti i tipi di caridine ho visto anche le multidentate a fare questo anche se non sono riuscito a riprenderlo comunque anche loro tendono a pulirsi a piegarsi su se stesse quindi è un comportamento proprio dei gamberetti dei crostacei in generale e dei neocaridina davidi semplicemente perché sono più frequenti in acquario e quindi molti l'hanno notato ma lo fanno più o meno tutti i gamberetti bene amici questo è più o meno tutto a me piace fare i video di questo genere quando rispondo a alcuni quesiti ovviamente è sempre compatibilmente alle riprese che riesco a fare ovviamente questo è tutto un materiale mio quindi per poter fare un video per rispondere alle domande devo necessariamente fare le riprese di quello che capita anche a me in ogni caso potete fare tutte le domande che volete su un gruppo di acquariofilia aperto da diversi mesi ormai su facebook vi metto il link in descrizione potete iscrivervi al gruppo potete postare il vostro acquario o fare domande oppure semplicemente anche voi stessi aiutare altri che pongono dei quesiti inoltre dovete davvero perdonarmi se su instagram non riesco a rispondere perché siete veramente in tanti a scrivermi e la chat non è un semplice messaggio ma poi diventano discorsi lunghi quindi per me è veramente diventato impossibile riuscire a rispondere a tutti voi e vi chiedo scusa in ogni caso tutti i link sia di instagram che di facebook potete trovarli nella descrizione di questo video bene con questo video brevissimo spero di essere stato esauriente di aver risposto al vostro quesito e noi ci vediamo con nuovi video e nuovi aggiornamenti ciao a tutti